ciao amici benvenuti al mio canale io sono isabella oggi abbiamo il magazzino di barbie questa è la gelata di barbie io la adoro pure voi adorate i gelati io li adoro sono buonissimi questa è la barbie la gelataia che fa i gelati e questo è tutta la macchina come tutti i magazzini di barbie viene la rivista eppure viene questo cartoncino che dopo c'è fatto il disegno così possiamo colorare ok apriamola ok amici iniziamo con questo giochetto che vi avevo detto dall'inizio guardatelo che bello vabbè ora perché ho cacciato la scatola è un po' così però comunque lo possiamo fare qua dobbiamo collegare i gelati di panna fragola limone e cioccolato di loro e le dobbiamo colorare ora la rivista e poi ci abbiamo tutto la gelateria che ora la premo qua inizia la solita storia che dice il titolo della storia è una strada in salita e qua c'è tutto e qua iniziano i giochi e qua ci parla qualcuno questa barbie e qua c'è colora i giochi non ci vedo questo è la macchina delle barbie extra voi ce l'avete io ho questa no roga no roga no roga guardate c'è un po' di una piscina dietro bellissimo qua sono i giochi della mia barbie che io ce l'ho ho fatto pure il video però dopo lo dovete vedere però non so niente questo dopo di questo lo vedete questo è un'altra cosa di tutte le barbie extra che vi dico io le adoro le barbie extra qua c'è un'altra cosa che io le pose la lattia qua c'è un altro giochetto e qua c'è il poster il poster stanno quasi in campeggio loro vediamo qui la pancina di campeggio e sticker ora un altro di colorare qua dovete fare il disegno e dopo lo dovete inviare alla pagina di barbie così dopo loro scelgono il nome il cognome il matani e poi lo dovete mandare qua ci sono il cambio di barbie qua è un puzzle e qua ci dice cosa possiamo leggere qui e qua qua dimostra tipo i gelati dei gelati questa è la nostra gelateria qua questi sono buoni figli gelati sono tutti gelati che possiamo fare a casa questo è un'altra cosa di leggere quanto la leggere questi come vedete sono tutti i geni che inviano i bambini tipo questa è una principessa come me questa è barbie con le sue sorelle e qui dobbiamo colorare e colorare e pure dobbiamo e prima la vinto nella uscita del gelato qua leggere e qua abbiamo finito ok amici ora vediamo la barbie ok amici ecco la nostra macchina dei gelati allora qua vediamola un momento dietro dietro c'è questo cosetto che si può togliere dopo questa è la play doh plastichina che dopo qua è il sapore buffo a fragola dopo mettete un po' di questi due qua dentro in questo bucket qua in questo qui e dopo con questo spingete forte forte così e vi esce tutta la plastichina da qua sotto vediamo le cose questa è la cassa che si paga qui ci sono tutti i numeri poi c'è i due le bocchette una rosa e una blu ci sono due cucchiaini una rosa e una blu sono tutti rosa e blu ora queste sono delle decorazioni per i gelati questi sono i portaconi e dopo questo è il portaconi che vedete quando vi offrono un gelato ce lo ve lo offrono con questo no? ora vediamo la Barbie questa è la Barbie vediamo le scarpe le scarpe sono tutte rosa bellissime tutto quello che c'ha da gelataia c'ha pure il logo Barbie guardatelo che bello è piccolissimo piccolo 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 c'ha un vestito tipo con dei gelati guardatelo con dei gelati dei gaccioli qualcosa così buonissimo e dopo c'ha questo che è per preparare i gelati ok amici ora vediamo la magia di questo però vi consiglio qualcosa dopo di aver giocato che lo dicono pure le istruzioni allora prendete questo se rimane un po' di play doh prendete questo vedete questo bordo piccolo piccolo questo serve per pulire questo questo qui e invece il cucchiaio questo qui serve per pulire qua così e il cucchiaio ma pure per pulire questo così pure non si rompe ok ora possiamo vedere la magia di questo fanno i gelati sei d'accordo Barbie? si sono d'accordo che vogliamo fare? un gelato a fragola o a puffo? facciamo la fragola ok bambini? prendiamo la play doh mamma è bella forte prendiamo questo prendiamo un po' di play doh rosa oppure blu come volete voi prendiamo questo e dopo facciamo una pallina vero Barbie? si stai facendo molto bene fatelo pure voi a casa bambini perfetto facciamo una pallina facciamo così e deve essere di questa forma ora facciamo questo riguardo della magia prendiamo il tubetto e lo mettiamo dentro e lo che misurò lo facciamo gentile il resto lo facciamo e lo mettiamo ok ok quale volete cona o coppetta? meglio cona prendiamo cona lo mettiamo qui mettiamo cona vabbè mettiamo uno alla coppetta vediamo come esce con la coppetta perfetto è magia wow bambini che bello wow che ci chiedo wow che bello wow è bellissimo guardate qua wow è venuto benissimo ma quale vogliamo mettere? questa questa o questa? mh mercopanella ok perfetto guardate che bella ok Barbie te la puoi mangiare grazie Isabel è buono lasciamola qui guardate amici a me mi è piaciuto tantissimo questo giocattolo la verità è che mi è piaciuto io l'adoro vero Barbie è divertente si è divertentissimo ok ricordatevi che vi tu potete fare click qui sotto e vedete questi video mi potete cercare come Isabel Love in Instagram Isabel Love e pure in TikTok io faccio tanti video pure della cucina e faccio pure video di viaggi pure di barco giochi e non vi dimenticate ma non vi dimenticate di sorridere sempre ciao ciao amici ciao